Oggi ci occupiamo dell'undicesimo arcano, ossia la forza, quella che vedete è la rappresentazione nei tarocchi yugliani dell'arcano della forza, ossia appunto negli arcani di Wang, dove ritroviamo sia alcuni elementi che abbiamo già incontrato nelle carte precedenti, sia altri elementi del tutto nuovi. Come vedete il soggetto della carta è una giovane donna che pare in totale confidenza, pare avere completo controllo sul leone che le sta davanti e che guarda dritto e fieramente di fronte a sé. La ragazza usa la mano destra per esercitare il suo controllo sul leone, mano che concerne, come sappiamo, l'attività pratica, l'attività razionale, frutto di pensiero e saggezza. La giovane inoltre indossa una veste bianca, sintomo di purezza, chiarezza ad animo e di intenti, onestà, trasparenza morale, mentre il leone ha un manto piuttosto rossastro, indicando invece la materialità, l'istinto, le energie più basse. Tutti questi sono elementi e dettagli fondamentali che ci portano velocemente a comprendere quanto le forze carnali, l'istintualità siano controllate e controllabili efficacemente solo da un animo saggio, determinato, puro, equilibrato e razionale. Se notate infatti anche nel mandala davanti al leone il cerchio rosso più piccolino centrale è inserito, è inscritto all'interno di una circonferenza di color azzurro, sottolineando quanto la spiritualità sia il giusto elemento di contenimento per tutto ciò che rappresenta appunto la fiammante materialità umana. Nella rigogliosa natura ai piedi della giovane e del leone, rigogliosa in quanto l'equilibrio tra istinto e ragione crea un clima, un'atmosfera di grande prolificità, vedete che è presente una mezzaluna bianca rivolta verso l'alto che noi avevamo già trovato nella carta della papessa, come simbolo ulteriore di fecondità, di purezza progettuale, di fioritura, di crescita, proprio appunto in virtù di un'atmosfera resa piacevole e feconda grazie ad un equilibrio tra ragione e sentimento, tra spiritualità e materialità. Notate inoltre il ponte alle spalle della giovane è di color viola. Secondo l'analisi cromatica il viola è un colore che rappresenta la massima saggezza, ossia la capacità di dominare l'io per raggiungere una spiritualità tale capace di atti grandiosi di maturità e profondità interiore. Di nuovo dunque un rimando all'importanza del controllo razionale sulle energie più basse rappresentate da quella apertura nel terreno alle spalle della giovane, quasi sottolineando appunto l'importanza di sacrificarle per arrivare ad un punto di svolta fondamentale della propria esistenza, per arrivare alla completezza, all'armonia totale, alla pienezza interiore, ad una trasformazione e maturazione profonda e proficua. Ma a proposito di completezza e di armonia, notate che nella parte alta della carta, nel cielo blu della notte, noi abbiamo dodici stelle ed ecco che ritroviamo appunto un altro elemento che abbiamo già trovato nelle carte precedenti, ossia il numero dodici che avevamo già trovato in particolar modo nella ruota di fortuna. Sappiamo infatti che il numero dodici è considerato un numero sacro assieme al tre ed al sette. Se notate le fiammelle nel corso d'acqua alle spalle della ragazza sono appunto tre. Il dodici rappresenta appunto la completezza, quell'armonica pienezza di cui vi parlavo poco fa, il passaggio ad una fase di maggior maturazione, di trasformazione, a seguito ovviamente di prove difficili, quali ad esempio quelle di frenare l'istinto e le emozioni più dirompenti. Prove sì, certamente difficili, ma che sono le uniche veramente in grado di portare ad un vero cambiamento ed equilibrio e quindi ad una crescita personale. Il numero dodici è molto presente nella nostra cultura. Dodici sono i mesi dell'anno, dodici sono i segni zodiacali, dodici è la suddivisione oraria e temporale del giorno, dodici sono gli apostoli di Gesù, dodici sono le tribù di Israele, dodici sono i profeti minori, dodici sono i figli di Giacobbe, dodici sono le porte della città celeste, dodici sono anche i cavalieri di Rerto, dodici sono le tavole delle leggi romane, dodici sono gli imperatori romani, ossia i Cesari e potremmo andare avanti veramente ancora per una lunga lista. Il dodici, il numero dodici dunque simboleggia una fondamentale fase di passaggio che comporta sacrificio, fatica fisica e morale. Una fatica che nella carta della forza rappresenta che cosa? La capacità di autocontrollo e di forza interiore, la capacità di dominare i propri istinti, di affrontare gli eventi governandoli e trasformando con coraggio e caparbietà usando intelligenza e dialettica ogni situazione avversa. Nella forza è richiesto di controllare esplosioni di rabbia, di collera, energie negative, atteggiamenti dispotici, prepotenti, distruttivi a favore di una comunicazione più indulgente, più consapevole e capace. La forza dunque rappresenta tutte quelle vittorie, quelle conquiste che si ottengono soltanto aprendosi alla positività e al rispetto del prossimo, senza esagerazioni o comportamenti fuori dagli schemi, usando ottime capacità comunicative, oratorie e dialettiche al posto, ad esempio, della forza bruta. Questa invece è la definizione che Jung dà della carta della forza, ossia una giovane apre la bocca di un leone. Ovviamente Jung si riferisce alla rappresentazione della carta della forza nei tarocchi di Marsiglia, dove abbiamo appunto una giovane donna, similmente ai tarocchi jungiani di Wang, che però apre personalmente la bocca di un leone con la mano destra. È vero che si aiuta anche con la mano sinistra, ma il grosso del lavoro lo fa comunque sempre la mano destra. La ragazza porta il segno della vitalità sul suo cappello, altro riferimento alla rappresentazione della forza nei tarocchi di Marsiglia, dove vedremo che sul cappello la ragazza ha delle decorazioni di color rosso, che indica appunto l'istintualità umana, che è presente e riconosciuta nella carta della forza, ossia non la si rinnega mai, poiché è parte integrante dell'essere umano, ma ne si cerca semplicemente autocontrollo. Infine altre due definizioni che ci fornisce Jung sono libertà e forza, assolutamente unite una all'altra, poiché l'essere umano, ricordiamoci che ha sempre di fronte a sé la possibilità di scegliere arbitrariamente tra bene e male, tra forza bruta o consapevole capacità dialettica, tra possibilità di controllare la propria collera e propria istintualità oppure di lasciarne libero sfogo. Dell'essere umano dunque viene riconosciuto pienamente il libero arbitrio. Ecco, questa invece è la rappresentazione della forza nei tarocchi di Marsiglia, quelli appunto studiati da Jodorowsky. Anche in questo mazzo la forza dà un messaggio chiarissimo, ossia che per arrivare ad una nuova coscienza si deve passare sempre attraverso il rapporto con le forze istintive e, come dice lo stesso Jodorowsky, la forza lavora dalla cintola in giù, per mettere in comunicazione le istanze più basse e istintuali con la più alta spiritualità. In questa donna è visibile una forza eccezionale, oltre che anche un desiderio di bellezza e vitalità. Se notate infatti l'unghia dell'alluce e del pollice sono dipinte di rosso. La forza dunque rappresenta il dialogo eterno tra energia spirituale ed energia istintiva. Quel dialogo che avviene su un terreno che come vedete è di color giallo, quindi un dialogo possibile solo su un terreno di presa di coscienza razionale e di equilibrio mentale. Notate inoltre che il leone è qui di due colori, per metà rosa carne e per metà di color giallo, ad indicare rispettivamente che la sua animalità si rende disponibile a comunicare a quel dialogo, di cui appunto abbiamo parlato poc'anzi, con la mente. Infatti la donna è a mani nude e seppur pare mettercela tutta, in realtà il muso del leone non sembra volersi chiudere, ad esempio ferendola. La riuscita di questo dialogo, di questa comunicazione tra mente e animalità, tra mente e manifestazioni dell'inconscio, tra mente e sessualità, può portare alla crescita e all'illuminazione. Invece il disaccordo può condurre a blocchi e repressioni, perché il rapporto tra la nostra natura intellettuale e la nostra voce animale è fondamentale nel garantire un sano equilibrio. In una condizione di sano equilibrio perfetto dunque avremo questa condizione. La natura intellettuale ascolta la voce dell'animale e l'animale ascolta l'influenza del mentale. In uno stato invece di disequilibrio, in cui conscio e inconscio non sono in armonia, invece si scatena un vero e proprio combattimento, dove l'energia sessuale che viene repressa va a mutilare la psiche, il cuore, reagendo sotto forma ad esempio di abuso, di trauma, di shock. Ad esempio è quello che accade in una educazione troppo rigida e castrante. La carta della forza dunque rappresenta un momento della propria vita in cui l'istinto si fa sentire con nuove richieste, con nuove istanze da soddisfare. Può rappresentare ad esempio l'emergere di un desiderio o di problematiche sessuali, a seconda che l'individuo lasci che si esprima questo desiderio oppure tenti di immobilizzarlo, appunto di castrarlo. Dopo una malattia la forza rappresenta ad esempio il ritorno all'energia vitale, quindi la guarigione, la salute. La forza ci impone di vincere le nostre paure, di essere pronti a tutto, perché i sensi non hanno limiti, al contrario della morale che invece è fatta di paure e di tabù. Secondo Jodorowsky dunque la forza ci mette di fronte all'immensa palude delle nostre pulsioni, a quelle più sublimi ma anche più tenebrose e più oscure, poiché essa è l'energia oscura che dentro ciascuno di noi giace, nelle profondità, nei sotterranei del nostro essere. La forza è potenza sessuale, è come una fornace ardente, dice Jodorowsky, che scalda come un denso magma e risveglia, è come un oceano in tempesta di impulsi e ferocia creativa. Essa è dialogo tra un diavolo ed un angelo. Queste sono le parole chiave che invece Jodorowsky identifica per quanto riguarda appunto la forza, ossia animalità, belva, creatività, profondità, voce, intesa ovviamente come la voce della nostra istintualità, che porta appunto alla nostra creatività, alla nostra illuminazione, ad una nuova presa di coscienza. Pubertà come appunto nascita di nuove istanze di tipo sessuale, come abbiamo detto prima. Dire, quindi esprimere se stessi in ogni modo, ad esempio appunto attraverso la propria potenza sessuale o attraverso appunto la propria creatività. Oppure tacere nella accezione negativa, rinascita, quindi come nuovo ciclo. Forza, ovviamente non forza brutale, ma forza interiore. Inizio, o io aggiungerei anche un reinizio, comunicare e sentire in completa collaborazione tra corpo e mente, tra materialità e spiritualità. Queste invece sono alcune interpretazioni tradizionali di questa carta che appunto ne dà Iodorowsky nell'ambito di una qualsiasi stesa. Potenza creativa, lo abbiamo anche già detto prima, valore, cuore nobile, un cuore ovviamente che si esprime attraverso la propria spiritualità e saggezza, mettendo invece da parte la forza brutta. Nuova partenza, inizio di un'attività, apporto di energia nuova, lo abbiamo detto anche da un punto di vista proprio di salute, energia istintiva, animalità, forza, ira, nella accezione ovviamente negativa, come appunto collera, rabbia, eroismo, coraggio, grande coraggio, autodisciplina, lo abbiamo detto che la forza rappresenta l'autocontrollo, rapporto tra la mente e l'istinto, apertura o repressione, a seconda appunto della libera scelta dell'individuo, richiamo della sessualità oppure inibizione sessuale appunto nella accezione negativa, repressione, nuovamente appunto un'accezione fortemente negativa, difficoltà di espressione, quindi tutto ciò che è castrante rispetto alla propria istintualità, apertura, ovviamente invece nella accezione positiva, orgasmo, perché abbiamo detto che la carta della forza rappresenta la sessualità più potente e tantra. Questa è la mia solita carrellata per quanto riguarda appunto l'arcano di cui ci occupiamo nei vari mazzi più o meno diciamo tradizionali che uso anche appunto nelle mie stese. Partiamo dai tarocchi delle opposizioni e vediamo appunto che la forza in questo caso viene rappresentata direi con colori molto similari ai tarocchi junghiani di Wang. Notiamo infatti che la donna ovviamente nella accezione positiva della carta ha un abito bianco che quindi rappresenta appunto la purezza, la saggezza e la forte spiritualità, notiamo che il leone ha un colorito del manto decisamente brunastro e ne va a rappresentare appunto la materialità, l'istintualità, la carnalità umana. notate che l'ambientazione è direi piuttosto serena, che la vegetazione è molto rigogliosa e se notate anche in fondo abbiamo un castello direi piuttosto bello e ben fatto come simbolo appunto di potenza e di forza. Notiamo che appunto in questo caso nella accezione ovviamente positiva il leone non pare assolutamente infastidito dalla presenza della donna che appunto gli apre le fauci ma assolutamente sembra diciamo accondiscendere a questo potere acquisito dalla donna proprio come abbiamo visto nei tarocchi di Marsiglia. Notate anche un particolare ossia abbiamo sulla testa di questa giovane il simbolo dell'infinito come esemplificazione dell'eterna lotta o comunque dell'eterno confronto scontro tra corpo e mente, tra spirito e materia. Per quanto riguarda invece l'accezione negativa notate che invece in questo caso l'atmosfera cambia notevolmente ossia abbiamo un'atmosfera decisamente molto più oscura, delle nuvole invece piuttosto nere che stanno ad indicare chiaramente una situazione di minor serenità, il prepararsi a un vero e proprio scontro. Notate inoltre che il terreno è decisamente molto arido e quindi non c'è assolutamente vegetazione. Se notate il castello in fondo non ha più un aspetto ben fatto bensì invece ha un aspetto totalmente diroccato stando appunto ad indicare una mancanza di potere. Notate inoltre che il leone in questo caso è smunto, magro, ha un aspetto fortemente emaciato che potrebbe rappresentare appunto problemi di sessualità scarsa, di scarsa libido o mancanza totale di creatività o comunque di stimoli. Notate però che in questo caso il leone tende a chiudere la bocca, chiudere le sue fauci stringendole, serrandole bene, quasi rischiando addirittura di mordere le mani della donna. Di conseguenza in questo caso non esiste collaborazione tra corpo e mente, tra spiritualità e carnalità. Non esiste né collaborazione né comunicazione, quindi è presente un clima di rabbia, di collera. Notate inoltre anche il colore dell'abito della donna che in questo caso è un colore decisamente più oscuro e i profili oltre che chiaramente la cintura sono di colori ben diversi rispetto all'accezione positiva. Notate infatti che nell'accezione positiva i profili erano gialli indicando appunto una razionalità che comunque prendeva il sopravvento sulla forza bruta e la cintura è di color viola stando ad indicare appunto quella saggezza di cui abbiamo parlato ad esempio nei tarocchi di Wang. In questo caso invece cioè nell'accezione negativa se notate invece i profili del vestito sono rossi e la cintura è rossa stando ad indicare che invece in questo caso prendono decisamente il sopravvento tutti quegli istinti, tutte quelle energie più basse che appunto fanno parte della natura umana ma che in questo caso di certo non portano ad una collaborazione con la saggezza e con una forma di spiritualità. Questa invece è la rappresentazione che viene data della forza dai tarocchi appunto della luce che come vedete hanno sicuramente un taglio decisamente molto più moderno. Notate che in questo caso la forza viene indicata e anche rappresentata proprio a livello iconografico come forza interiore, come concetto di forza interiore proprio perché il volto di questa splendida ragazza è infatti metà umano con sembianze assolutamente umane e l'altra metà invece con sembianze da leone. Di conseguenza questa carta rappresenta una sorta di metafora di forza come quelle energie interiori presenti in ciascuno di noi e che trovano un'ampia comunicazione all'interno di quella che è la nostra mente, all'interno della nostra spiritualità, all'interno del nostro ragionamento, all'interno della nostra intelligenza e che si possono tradurre nell'accezione positiva o non tradurre nell'accezione negativa con appunto forme di comunicazione, di creatività, di benefica potenza creativa, sessuale, come coraggio oppure appunto nella accezione negativa abbiamo detto come invece lasciare libero sfogo ai propri istinti ad esempio con la collera, con l'era oppure addirittura invece al contrario castrarli completamente riducendo ad esempio l'individuo ad una esistenza diciamo tutto sommato piuttosto puerile, quindi con grandi incapacità appunto di azione. Notate che anche in questa rappresentazione della forza abbiamo il simbolo dell'infinito sul braccio sinistro della ragazza, quindi tatuato, anche in questo caso ovviamente rappresentando l'infinita lotta, questo incontro scontro tra corpo e materia che è presente in ciascuno di noi proprio perché in quanto esseri umani siamo dotati sia di una nostra istintualità ma anche ovviamente di una nostra razionalità. Questa è la rappresentazione della forza invece nel viceversa tarot, notate che anche in questo caso è molto simile ai tarocchi jungiani di Wang, abbiamo appunto questa giovane donna vestita appunto di bianco che chiaramente apre le fauci a questo leone anche qui di carattere rossastro, brunastro. Notate che l'ambientazione è decisamente molto serena, la vegetazione è direi piuttosto rigogliosa, alle spalle hanno anche questo campo di grano che rappresenta appunto la fertilità, la prolificità di un ambiente e di una situazione in cui appunto ci sia una grande collaborazione tra istinto e ragione. Notate anche in questo caso il simbolo dell'infinito sulla testa della ragazza rappresentando appunto come ho detto anche precedentemente questa sorta di conflitto eterno presente negli esseri umani proprio in quanto tali tra appunto corpo e materia. Questo chiaramente nella parte diciamo frontale dei viceversa tarot. Per quanto riguarda invece il retro che rappresenta invece chiaramente una situazione decisamente più oscura vedete che la forza in questo caso assume delle connotazioni un po' diverse ossia mostra quello che potrebbe accadere nel caso appunto negativo della situazione ossia nel caso in cui non ci sia appunto collaborazione tra ragione e sentimento nel caso in cui l'individuo lascia libero spazio a quelli che sono appunto i propri istinti, i propri sentimenti più impetuosi, le proprie energie più basse. Difatti abbiamo di fronte a noi una figura assolutamente demoniaca, il diavolo che quindi rappresenta appunto le energie più basse, i desideri diciamo meno spirituali dell'essere umano. Questa invece è la rappresentazione che appunto ne danno i pagan tarot per quanto riguarda la carta della forza. Anche in questo caso il tipo di forza rappresentato non è la forza fisica, la violenza o comunque il potere, la sopraffazione, quanto invece la pazienza, la costanza, la sopravvivenza alle avversità e la scoperta di una propria pace interiore che è in questo caso in grado di dialogare con anche animali di diversa specie proprio perché l'individuo utilizzando la propria razionalità, la propria capacità oratoria, comunicativa e dialettica è in grado di superare qualsiasi avversità ed anche appunto l'incapacità stessa di arrivare ad un compromesso che invece abbiamo visto nell'accezione positiva è assolutamente necessaria nella carta della forza. Questa carta ci invita quindi a fidarci del processo che ci porta a questa pace interiore cominciando quindi un percorso che ci porta alla prosperità e quindi non soltanto alla sopravvivenza. Questa invece è la rappresentazione nei gay tarot per quanto riguarda appunto la carta della forza. In questo caso notate che questo ragazzo si accinge a domare appunto questa tigre rappresentando appunto la capacità di autocontrollo di cui abbiamo parlato sin d'ora. Dirigendo quindi la propria istintualità, le proprie passioni senza però costringerle o contenerle ma semplicemente cercando di farle vivere, cercando di creare un dialogo con esse, un compromesso con esse in modo da trovare una via sana, equilibrata per poterle esprimere, per poter esprimere i propri sentimenti più dirompenti, le proprie energie più dirompenti che comunque in quanto ad esseri umani ci sono e ci devono essere ma che comunque chiaramente hanno bisogno appunto di una guida proprio come sta facendo questo ragazzo con questa tigre. Questa invece è la rappresentazione della forza in questa new entry diciamo, ossia in questi nuovi arcani che ho utilizzato già anche in un video, ossia i tarocchi di Ramses che io trovo assolutamente splendidi e in questo caso la forza come un po' tutti gli arcani maggiori sono rappresentati da delle divinità, in questo caso la forza è rappresentata da Bentanat che rappresenta l'energia, il duro lavoro, la forza morale e il coraggio, ovviamente nelle accezioni negative invece la pigrizia, l'impulsività e la debolezza. Per quanto riguarda anche gli Udu Tarot, gli African American Tarot o gli Afro-Brasilian Tarot e di conseguenza la carta della forza, la rappresentazione della carta della forza in questi mazzi, vi lascio il link in descrizione, proprio perché comunque ho già parlato di tutti i singoli arcani, compresa anche la carta della forza, in alcuni video che trattavano singolarmente appunto di questi mazzi e delle varie tradizioni che comunque ne sottendevano. Di conseguenza appunto per quanto riguarda quei tre mazzi vi lascio il link in descrizione.